di correre il tour possiamo mettere nei pronostici quello del Michelanda vincerà un grande giro quest'anno o meno è una bella domanda al di là del fatto che sia o meno da un milione di dollari io ti dico che secondo me no non vincerà un grande giro quest'anno però dall'altra parte ti dico che visto il percorso del tour se ha uno shot a vincere un grande giro è giusto che provi con il tour tra giro e tour dico poi dopo la volta è sempre un discorso a parte l'abbiamo detto ridetto è stradetta questa cosa è la punta per le corse a tappe della sua squadra c'è quindi interesse in un certo senso a mandarlo al tour de France e per giunto il percorso del tour gli si confà in maniera particolarmente buona perché ci sono tantissime salite e tantissimi arrivi in salita prima dell'archiviazione definitiva me la permetti una piccola segnalazione per Chris Harper ne ho parlato prima se ti dico di no cosa fai? stai zitto no la dico lo stesso perché tanto oggi comando io ah ok oggi sei tu un dittatore di questo no ma sai perché ogni tanto ogni tanto la dittatura deve cambiare mano se no anche ci si è e poi in questo modo cessa di essere una dittatura se almeno è alternata in un contesto di sole due persone guarda che paraculo che sono no Chris Harper perché avevamo parlato di Berwick qualche giorno fa in occasione dell'era al Santur e Chris Harper a me sembra un po' un Berwick cresciuto e arrivato nel world tour è un ragazzo non più giovanissimo a 25 anni la Jumbo Visma l'ha prelevato da una continental locale australiana in cui correva la Bridge Lane dopo un ottimo 2019 in cui è stato vice campione australiano chiuso quarto l'era al Santur ha vinto il giro di Giappone portandosi a casa la tappa del Fuji e vincendo anche il Tour de Saguamon Blanc con due tappe se Jumbo gli ha fatto un biennale un motivo c'è vediamo che salta fuori prestazioni comunque interessanti per un nome che resta un nome di secondo piano in questa ruta del sol primo c'è stata anche la vuelta dell'Algarve credo che sia questo il nome corretto vuelta ao Algarve vabbè questo è poco importante e abbiamo 400 metri di salita da commentare perché sono veramente importanti questi sì sono solo 400 ne abbiamo sì più o meno ma quelli da commentare sono solo 400 no diciamo che l'abbiamo detto anche prima che ha offerto meno in termini di interessi come dire strettamente tecnici e quindi possiamo concentrarci effettivamente su questi 400 metri che sono stati i 400 metri di Remco la corsa si è aperta con una volata a Lagos vinta da Jacobs e Nanetta su Viviani e su Trettin con Christophe IV e poi abbiamo questi 400 metri sull'Alto da Foia Alto da Foia dei Montevirgen dei Mercogliano gli ares del Maestrat perché la strada da seguire era quella cioè sono il dittatore oggi e allora questa è catalogata dai tecnici come la salita del merda si può dire mettiamo l'etichetta si può dire si può dire vai vai mettiamo l'etichetta ma dai tanto te ne occupi tu no che cosa si è visto si è visto un grande ritmo di Almeida da cui ci aspettiamo tanto dopo tutto quello che ha fatto nelle categorie giovanili secondo nel giro Under-23 vinto da Vlasov Liegi Bastogliegi Under-23 altre vittorie importanti si è visto davanti ha fatto un gran ritmo ha sfoltito un gruppo che a un certo punto si è ridotto a una quindicina di unità a 400 metri al traguardo boom parte Remco boom parte Remco parte Remco controvento era una giornata ventosa e si può aprire un altro capitolo di questo libro che lui sta scrivendo sto dicendo stiamo scrivendo no in realtà lo sta scrivendo lui e ha aggiunto un altro capitolo ma ha aggiunto un altro capitolo non perché ha fatto un'altra cosa importante ma perché ha offerto un altro pezzo tecnico di classe di potenza chiamiamola come vogliamo che è partito secco si è lasciato dalle spalle gente tipo shakman che gli stava rientrando si è lasciato dalle spalle gente tipo martin pare ci fosse anche lui costa un ottimo ricosta in questo inizio di stagione la domanda è se te l'aspettavi una cosa del genere no non me lo aspettavo però devo essere sincero ripensando poi a quello che è successo gli devo riconoscere oltre che delle grandi gambe questa è una cosa che abbiamo sempre fatto praticamente oramai da due anni a questa parte in questo fantastico libro che lui sta scrivendo noi siamo i cronisti facciamo le chronicles no gli devo riconoscere anche una grande intelligenza quello di cui stavamo parlando nel commentario questa cosa è che siamo rimasti sorpresi perché è stato veramente intelligente in quello che ha fatto cioè su una volata di 100 metri 150 metri in salita non ha chance contro corridori che hanno un'esplosività che è oggettivamente superiore alla sua ti ricordi quando parlavamo ai primi tempi la prima puntata in cui abbiamo affrontato l'argomento Remco Evenepoel dicevamo l'unico modo per batterlo è arrivare in volata con lui perché non è esplosivo perché non è esplosivo diceva Van Wilder il suo avversario da juniores e questa è una volata e questa in teoria sulla carta era una volata il punto è è una volata da 15-20 secondi allora Remco Evenepoel non ha lo sprint per primeggiare l'ha fatta diventare uno sforzo di 40 e questa qua è la cosa intelligente di Remco qui oltre alle gambe vedi che è un corridore intelligente uno che fa una cosa del genere sì anche perché sarebbe stato più naturale per un corridore con le sue caratteristiche sarebbe stato più immediato diciamo partire prima provare prima invece prova prova al momento giusto c'è una grandissima lettura di ciò che sta facendo trovandosi anche controvento poi immagino che possa essere stato ad un certo punto di vista frenato cioè sarà una giornata ventosa effettivamente è chiaro che uno può anche pensarci un attimo prima di attaccare per paura di finire lungo però è stato veramente brillante cioè proprio ma bravo 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 giorno dopo altra volata stavolta dice Sboll che ha premiato ha premiato meglio di come fa di solito Matthews non ha ancora esordito Matthews gli stai già tirando gli schiaffi guarda questa poverino però è chiaro che le Chronicles parlano Boll ha premiato un grandissimo lavoro di Sunweb ha vinto su un modulo che si è rivisto in alto negli ordini di arrivo su Jacobs e su Cristo fin il giorno dopo altra salita caratteristiche più da morito per l'alto de Malau bel numero di Lopez personalmente non mi aspettavo vincente su Martin su Schakman ripeto su un ottimo ricosto in questo inizio di stagione dovrebbero essere cinque top five se contiamo anche le classifiche generali Remco ha pagato quattro secondi ha chiuso in terza posizione in assoluto controllo finale diverso rispetto a Foyage comunque si finale diverso infatti pochettino li ha pagato nel finale cioè non ha avuto il kick che avevano i suoi i suoi avversari cioè quando è diventato uno sforzo da esplosivi più che da endurance endurance con quel qualcosa in più ha pagato un pelo ma poco male cioè perché tanto poi c'è la crona si ma non soltanto perché ecco ha denotato caratteristiche che su un arrivo di questo tipo sembra che al momento gli impediscono di primeggiare perché non sembra potersi spingere al punto da primeggiare anche su questi terreni sono comunque terreni poco proposti ad eccezione della vuelta dove diventano più consueti e dove di regola Giacomo anche se non primeggi ma di sé difendere paghi poco quindi poco male che non abbia anche queste caratteristiche si può dire ma sì tre secondi su una salita del genere affrontata come traguardo di tappa perché poi queste salite cioè un conto sono affrontate all'interno di una corsa come la Liegi di 240 km per cui ti trovi davanti determinati tipi di corridore oltre a quelli così esplosivi ma possono diventare candidati per vincere queste gare anche i Fuglizang anche i Nibali o i Formolo che non sono esattamente degli esplosivi quando le trovi all'interno di una corsa invece di una tappa di 150-160 km in cui sono l'arrivo in cui vengono affrontate una volta o due si può pure perdere qualche secondo ma non c'è niente di male assolutamente e poi come giustamente dicevi c'è la possibilità il giorno dopo di liberare i cavalli che hai in corpo e liberarli in una perché non è solo intelligente è anche tanto forte è anche fortissimo porca di una miseria in una cronometro ondulata di 20 km vinta da Gesche no non è vero qualcuno ci ha creduto ma in realtà che burlone qualcuno ci ha creduto ma in realtà gli aveva no non io non sto facendo autoironia io non ci ho creduto affatto gli hanno incasinato un po' il tempo e ha vinto ha vinto Remco con 10 secondi su Dennis che pare stia conservando energie per Tokyo ma vabbè 19 secondi su Kung 38 su Shackman Kiatowski e Bevin 46 Lampart 1.06 Nibali esordiva anche Nibali insieme con Garen Thomas Nibali ha fatto vedere qualcosa di meglio diciamo rispetto a Thomas in questa in questa vuelta al Garve Remco si porta a casa anche la classifica generale su Shackman e Lopez Remco e Bevin in classe 2000 già 10 vittorie in carriera per un corridore che è comunque privo di volata privo di volata eh già privo di volata da 200 metri quella da 400 in salita ci ha fatto vedere di averla era l'esordio su strada anche per Matthew Vanderpool e abbiamo ricevuto una domanda quindi una domanda un'osservazione adesso te la faccio commentare brevemente una domanda di Andrea che ci scrive io cito testualmente poi dopo chiaramente tutto va messo nel contesto tiriamo subito le granate senza motivo così tanto per deludente Algarve per Vanderpool mi aspettavo di vederlo nei primi posti nelle due tappe in volata per quanto mi abbia stupito nella tappa di due giorni fa quella dell'alto da foia dove è stato con i big fino ai meno 5 vai la domanda innanzitutto è stata fatta con più di un pizzico di ironia perché Andrea è un ragazzo molto intelligente segue molto il ciclismo era più che altro un modo per lanciarci la palla per poter parlare di Vanderpool è una domanda che comunque ha un fondo di verità se si guarda al 2019 perché rispetto al 2019 c'è un'effettiva situazione di controtendenza perché l'anno scorso quando è filtrato su strada situazione praticamente analoga a quella di quest'anno tre discipline veniva dal cross non li aveva fatti tutti ma veniva dal cross poi è staccato è attaccato con la mountain bike poi è staccato di nuovo per tornare su strada però quando è filtrato su strada si è sempre dimostrato super competitivo ad Antalya Gran Premio di Denen Classico e Berge poi si è fermato mi pare si è tornato in Norvegia competitivo di nuovo anche lì vincendo una tappa poi al giro di Gran Bretagna vincente anche lì vederlo quest'anno in questo modo in Algarve è una situazione un po' di rottura rispetto all'anno scorso il punto però è che così è più comprensibile che nel 2019 fa bene a rifiatare fa bene a non prendere troppo sul serio l'Algarve perché già anche lui è collocato in una situazione in una dimensione tale da risultare assolutamente rilevante quello che fa in Portogallo a me è piaciuto e mi ha convinto sia l'atteggiamento che l'approccio che ha avuto alla corsa l'approccio fisiologico di fatto volto a fare fatica per capitalizzare più avanti come ha detto lo stesso Andrea fino a un certo punto ha tenuto duro perché gli serve far fatica perché adesso iniziano gli appuntamenti che sono interessanti per lui quindi niente di particolarmente preoccupante tutto nell'ordine delle cose per un ragazzo che è un mostro assoluto ma deve fronteggiare anche lui una forma molto importante di dispendio energetico e anche per lui vale la regola della gestione delle energie Giacomo si poi per giunta nelle due tappe in volata di fatto ha lavorato per favorire lo sprint dei suoi compagni di squadra penso che fosse nelle intenzioni della squadra quelle di non far disputare lo sprint a Matthew Underpool quindi l'osservazione da questo punto di vista sul fatto che sia stato deludente è da un certo punto di vista sensata dall'altro secondo me no perché comunque va pesato a partire da settimana da settimana prossima è vero l'anno scorso qualsiasi corsa si era cimentato era sempre il faro della sua squadra e la sua squadra pur essendo lo stesso gruppo di lavoro è una squadra anche diversa rispetto a quella dell'anno scorso cioè sempre il contesto professional non più continental non ancora world tour però è più qualificata sicuramente della compagine che c'era l'anno scorso l'anno scorso fondamentalmente l'unico corridore che poteva contendergli il ruolo di punta per determinati tipi di corse era team Merlier quando si arrivava in volata e solo da giugno in poi perché fino a maggio era senza contratto Merlier quest'anno ci sono tutta una serie di corridore come sparagli modulo che possono fare bene nelle tappe dell'Algarve e allora può anche avere senso dal punto di vista delle dinamiche interne lavorare per loro in un contesto del genere tu fai la fatica che ti serve per arrivare poi al fine settimana prossimo dove esordirai effettivamente sulle corse che interessano a te e mantieni in un certo senso una sorta di equilibrio all'interno della squadra mi sembra sensato in realtà per chiudere quanto concerne il discorso strada prima di passare brevemente alla pista si è disputato il tour delle Alpi Marittime dell'Alto Varo una corsa che a rispetto della categoria è una 2.1 vedeva via un buon se non ottimo parco di partenti anche per via del fatto che questa corsa si disputa su quelle che sono le strade di casa per una buona parte del gruppo se non altro quella più ricca che può permettersi una casa a Monte Carlo per pagare meno tasse 1 a 3 giorni condizionata da 3 arrivi in salita il primo a grass teatro di un bellissimo romanzo e film il romanzo di Patrick Suskind il film non so di chi sia che film è che libro è puzza sei proprio un simpaticone profumo va bene continuiamo secondo arrivo in salita sul Coldez che straordinariamente Cassano non farà parte della periginizia e il Monfaron che è il classico arrivo del fuggito del Mediterraneo le vittorie nella prima e nella terza tappa sono andate alla fuga di giornata con Anthony Perez che ha conquistato la prima vittoria europea per la Cofidis e Julian Bernard che si è imposto sul Monfaron prima vittoria dal professionista credo per Bernard non sono sicuro di questo fatto ma dovrebbe essere così il tuo amico Bernard l'anno scorso ti ricordi quando lo convocarono per Arrogate al posto di Madua e beh c'è senza offesa però no ci mancherebbe rabbia giustificata però ti ha dato una bella risposta ok ciò passù e porta ca destare clamore però è stata la seconda tappa l'arrivo del Coldez che infatti non è né difficilissimo né lunghissimo e però non ha impedito a Nairo Quintana di mollare a Nairo Quintana